Don Tonino Palmese, prete salesiano, vicario episcopale della diocesi di Napoli per il settore grazia e giustizia, presidente della fondazione Polis, la fondazione da sempre al fianco delle famiglie delle vittime innocenti della criminalità, da sempre combatti e tibatti contro l'illegalità e contro le mafie. Lei come si presenterebbe? Così, più o meno così, con un vissuto che non si può nascondere, 61 anni e 33 anni di sacerdozio e quindi come direi sono due due cifre che non solo indicano qualcosa che è già passato ma indicano anche qualcosa che ha a che fare con una cosa bella che si chiama fedeltà, che si chiama perseveranza, insomma, o perseverato sia nel vivere che nell'essere prete. Questa sua vicinanza nei confronti dei più deboli è una vicinanza, come dire, un'empatia che ha origini lontane, nel senso che l'esempio dei suoi genitori è stato sicuramente determinante. È vero che suo padre le ha insegnato che si è felici e vivi solo quando si è insieme agli altri? Sì, io ho vissuto in due chiese perché il quartiere dove abitavo alla periferia di Napoli, che è città di Napoli, Ponticelli, 50 anni fa avevano due chiese questo quartiere, il Partito Comunista e la Chiesa Cattolica. E a casa mia si trasferiva questo modello, io sono figlio unico, quindi le due chiese rappresenta mia madre cattolica, mio padre comunista, ma molto credente, non nell'accezione filosofica di credere in un'entità distante e astratta, ma di partecipazione alla vita anche ecclesiale. Anticipò il compromesso storico molto prima di Berlinguer e di Aldo Moro. Sì, dentro quella sensibilità, quella duplice sensibilità è chiaro che non riuscivamo mai a immaginare di poter essere felici solo quando stavamo noi soli, ma quando diventavamo motivo di fiducia, di speranza, di allegria qualche volta per gli altri. Per cui ero piccolo e mio padre e mia madre ospitavano le bambine, i bambini orfani di un'altra parte della periferia della città. Ero piccolo e andavamo in vacanza con altri amici, con altre famiglie, perché non dovevamo fare le vacanze da sole. Insomma, credo che questa dimensione ha caratterizzato abbastanza la mia vita da farmi restare figlio unico, con tutte le fatiche del figlio unico, ma anche da considerare l'umanità fraterna e non caina. È vero che da piccolo piangeva per i camerieri? Sì, è vero. Chissà da dove nasceva. Ho frequentato anche un po' di psicoterapia per me, ma non ho mai approfondito dal punto di vista psicologico, psicoanalitico, questo sentimento. Ne parlerò col mio amico psicoterapeuta. No, scherzo, voglio dire. Però è vero, io ricordo che vedere un adulto che mi serviva mi dava molto fastidio, ma nel senso che mi dispiaceva. non riuscivo a capire che era un mestiere, quindi lo vedevo come un qualcosa di terribilmente umiliante per lui. Io, bambino, dovevo essere servito a tavola. Perché non è che avevamo tanti soldi, papà era un operai. Quelle rarissime volte che andavamo al ristorante, mio padre e mia madre ci avevano detto che non ci possiamo intossicare per questa cosa. E quindi qualche volta io ho preteso che il cameriere mangiasse qualcosa a tavolo con noi. È lì che ha capito che voleva servire invece che essere servito. Forse sì, forse è lì e è tutto quello che è accaduto dopo, insomma. Che ragazzo è stato? Bastian Contrario. Ricordo che c'era un'espressione che sono riuscito a far censurare ai miei nel loro linguaggio. Pare brutto, sembra brutto. Quando mio padre e mia madre dicevano sembra brutto, così come piangevo per i camerieri, mi arrabbiavo davanti a questa espressione. Sembra brutto. Io avevo la consapevolezza che le cose che stavo facendo erano buone e giuste, quindi non dovevano essere considerate brutte per il sembrare agli altri. In genere ci azzeccavo perché erano cose pulite che facevo. Quindi quando mi sentivo dire, ma lascia stare, sembra brutto, non mi tornavano i condici. Ma come? L'azione è pulita e io devo fare una cosa che sembra brutta. se altri arriva brutta. Allora ho fatto censurare questa espressione. Sono stato capace, senza ovviamente mai violenza, però sono stato capace di dire ai miei, se mi volete bene non dite questa cosa. A meno che dimostratemi che veramente ho fatto una cosa brutta, ma no che sembra brutta. C'è stato anche un altro insegnamento che l'ha conquistata, che è quello di Don Bosco. Sì, sì, che è stato un insegnamento poi nella mia storia vocazionale un po' conflittuale perché io ho conosciuto i Salesiani, sono rimasto innamorato, colpito dall'allegria che c'era all'oratorio. Eravamo proprio allegri, proprio perché c'era un senso di spensieratezza canalizzata nel gioco, nell'impegno, persino nella preghiera. Ma tutta quella spensieratezza diventava un patrimonio per le altre cose, dal gioco alla preghiera. E quindi ero rimasto molto innamorato di questo. Però il primo grande conflitto poi l'ho avuto all'oratorio, con l'istituzione, diciamo, perché in quel periodo io insieme a dei miei amici più grandi di me leggevamo una rivista che si chiamava Rinascita, era il mensile del Partito Comunista e avevamo convinto, dicendo una bugia, al direttore dell'oratorio che Rinascita era una rivista che riguardava le cose sulla resurrezione. E lui forse non si era informato su questa cosa. Quando scoprì che era la rivista del Partito Comunista, insomma, ci restò male. Io non credo per la rivista in quanto d'anno, ma per il fatto che gli avevamo detto una bugia. E poi mi piaceva andare all'oratorio femminile, perché era trasgressivo andarci. All'oratorio era diviso maschile e femminile. E perché era trasgressivo andarci, io facevo tutto per andare a vedere le femmine che andavano all'oratorio. Così fui cacciato dall'oratorio. E una sera, durante il periodo della cacciata, dissi per provocare quel mio amico sacerdote, che purtroppo non c'è più, ovviamente lui era grande, e io gli dissi che mi poteva riammettere l'oratorio perché avevo pensato di farmi prete. Non era vero, era un modo di ritornare dicendogli una bugia. E lui un po' provocatoriamente, un po', come dire, forse in maniera ingiusta, disse, proprio tu. E quel proprio io mi colpì così profondamente da cominciare a pensarci seriamente. E cominciò da un'espressione che sembrava respingimento, e invece diventò un'espressione che mi abbracciava. I suoi come hanno vissuto la sua vocazione e la scelta di diventare prete? Ma mia madre ha pianto per un anno, le caddero i capelli, poi ritornarono i capelli senza nessun trucco particolare. E poi hanno benedetto il giorno che sono diventato salesiano e prete per come forse li ho potuti amare, per come li ho potuti anche servire. Visto che poi io da figlio mi sono dovuto prendere cura prima di mio padre, morto giovane a 59 anni per una malattia in un ospedale di Parigi dopo dieci anni di ricovero. E poi mamma recentemente, un anno fa, a 91 anni, dove ho potuto condividere con lei gli ultimi anni abbracciati proprio, anche di notte insomma, le facevo compagnia abbracciata. E lei aveva questa consapevolezza che la mia protezione era speciale anche perché ero prete. Però non mi diceva mai che era speciale perché ero prete, ma perché ero un figlio d'oro. Qualche tempo fa è insorto giustamente contro l'iniziativa di un quotidiano di vendere in allegato al giornale una pistola che sparava liquido al peperoncino. Ha detto dalla carta stampata mi aspetterei la possibilità di elevarmi culturalmente, non abbiamo bisogno di iniziative come queste in un paese in cui si ragiona sempre di più con la pancia. Sì, perché la pancia è diventata la dialettica di questi ultimi tempi. Io, come dire, sono un po' scoraggiato. Ho persino meno speranza, ma non meno speranza che qualcuno ci possa salvare, ma meno speranza nel presente perché è un presente fatto molto di pancia. È chiaro, si va in televisione, si partecipa a dei dibattiti e chi alza di più la voce può vincerla. Mi aspetto appunto che un giornale possa fare informazione e anche un po' di formazione, perché no? Che c'è di strano se si fa un po' di formazione? Uno. Due, in una città nella quale il maggior numero delle vittime sono innocenti per caso, dare una pistola in mano a una donna che legittimamente intende difendersi con lo spray al peperoncino, ma lo fa con la pistola, lei anziché essere picchiata o, come dire, mette in fuga il nemico, mette in opera nel nemico la possibilità di poter attaccare con la stessa arma, solo che quello non lo sa che ha il peperoncino e quindi gli manderà un proiettile mentre lei resta con la pistola. È un simbolo violento che ci ha fatto già troppo male e quindi non sta bene nemmeno nelle mani di chi non vuole essere violento. È un simbolo negativo. Parliamo dell'attività della Fondazione Polis, di cui lei è presidente. La Fondazione Polis, ricordiamolo, è una fondazione che da sempre è vicina alle famiglie delle vittime innocenti della criminalità, offre un sostegno psicologico ma anche concreto ai familiari delle vittime e ricordiamo anche che in Italia le vittime innocenti delle mafie sono centinaia, ma la Campania è la regione con il più alto numero di vittime. Innocenti per errore, come si suol dire. La Fondazione Polis nasce da una storia che mi è stata determinante nella mia vita, Libera, l'associazione, il coordinamento delle associazioni con Don Ciotti. Io sono stato per 15 anni referente di Libera e poi proprio perché non potevo sostenere i due impegni per incompatibilità istituzionale. La Fondazione nasce dentro questa cultura di antimafia sociale perché grazie a Libera e a tante altre espressioni che non sto qui a elencare, ma Libera sicuramente è stata una di queste che ha determinato una dimensione di cultura di antimafia sociale. Di non legare l'antimafia né alle sole emozioni, la morte di Falcone, di Borsellino e né alla solo delega magistrati e polizia, ma c'è un'antimafia che i cittadini ogni giorno devono fare, che va dalle cose più banali, che possono sembrare banali, dal pagare il biglietto nell'autobus al sostenere le ragioni di una civiltà, di una cultura che non sia violenta e quindi di impegnarsi in tutto quello che può essere un movimento non violento nella città, nella periferia e sui temi della giustizia in genere. Quindi la fondazione si inserisce questo e si inserisce per volontà politica perché nasce con l'allora governatore Bassolino, il successivo governatore della Campania di partito opposto a Bassolino, la conferma e poi ritorna al centro-sinistra con De Luca e conferma la fondazione. La fondazione accompagna dal momento del dolore, dal momento del dramma dell'uccisione, della morte di qualcuno accompagna le persone non solo in una ipotesi di rielaborazione del lutto, lo facciamo anche con dei protocolli di intesa con l'ordine degli psicologi, con l'ordine degli avvocati, ma l'accompagna nel sostenere questa dimensione di comunità dei familiari delle vittime perché i familiari delle vittime non sono diventati uno sportello per una realtà associativa come la fondazione, ma sono diventati prima e durante la fondazione una vera e propria comunità. Cioè hanno tentato e stanno tentando di elaborare la loro cultura, il loro disagio in qualcosa che possa diventare una risposta alternativa alla violenza che hanno subito. Può sembrare complicato come l'ho detto, ma poi significa che vanno nelle scuole, vanno nelle carceri e credo che, se può far piacere questa riflessione, credo che loro siano diventati familiari delle vittime e lo dico con un pizzico di orgoglio in Campania, perché in Campania il maggior numero di familiari delle vittime non sono di contrapposizione alle mafie, ma sono stati uccisi per errore, come si suol dire. E quindi sono diventati un capitolo dentro l'esperienza della giustizia riparativa e della vittimologia determinante. Cioè chi vuole capire la giustizia riparativa non può non confrontarsi con questa esperienza. Perché dico questo? Perché i familiari delle vittime non solo hanno raccontato la loro storia e quindi non sono diventati rassegnati o forcaioli come il carnefice, ma sono andati oltre la dimensione forcaiola che il carnefice muoia. No, loro non interessa questo. O rassegnati come il carnefice. Sono carnefice, non ho più niente da fare. Sono andati oltre e hanno compreso che la testimonianza diventava, soprattutto per le giovani generazioni, una grande opportunità per capire che le mafie non uccidono l'antimafia, ma uccidono la normalità e uccidono la giustizia. Se no, altrimenti nell'immaginario, soprattutto dei più giovani, può sembrare che le mafie sono quelle cose brutte di Gomorra dove non esiste l'antimafia o quelle cose da fiction dove esiste il poliziotto eroe che poi alla fine viene ammazzato e tutti vissero felici e scontenti perché è stato ammazzato. No, l'antimafia sociale è la possibilità di dire il mio lutto, la mia storia, può diventare una storia che fa ribellare la società perché le mafie non ci tolgono solo la vita rispetto all'antimafia, ma ci tolgono la normalità. Quando le mafie prendono gli appalti sui cimiteri, sulle case, sui trasporti, è perché ci stanno togliendo la normalità del vivere. Ci tolgono la normalità e si nutrono anche della disperazione della vita. E poi è chiaro, questa è l'altra faccia della medaglia che si pongono come i salvatori. C'è qualcosa di messianico nel camorrista che arriva e ti dà la garanzia. Ma quale garanzia ti dà? Del lavoro? Non so se si può chiamare lavoro, ma certamente l'unica garanzia è quella della morte, è della morte violenta. Oggi purtroppo le cronache ci raccontano anche di come anagraficamente sta cambiando anche il volto della criminalità. Vediamo killer ragazzini. e Napoli è una città dove questo purtroppo accade... A Disida esiste il 41 bis. Cioè esiste il carcere minorile. Il carcere minorile esiste un momento di carcere per alcuni che è la totale separazione dagli altri perché c'è bisogno dell'isolamento. Non entra in merito alla legge del 41 bis perché ha una sua complessità di giustizia e forse non. Però entra in merito nel fatto che noi abbiamo capito questo. Quando dico noi, dico noi familiari delle vittime, anche se io non ho avuto nessuna disgrazia in tal genere, però ho avuto una delega, posso dire noi familiari, i familiari mi autorizzano a dire noi familiari. Abbiamo capito che dobbiamo andare in quel carcere e sono nati dei progetti meravigliosi nel carcere di Disida. Dobbiamo andare in quel carcere perché i ragazzi hanno bisogno di capire che la vittima non è un fantoccio inanimato che sta a terra sotto di un lenzuolo, ma è la vita di un altro, dei figli, dei genitori, della moglie, del marito, del padre e quindi diventa un'altra cosa. Noi stiamo avendo dei risultati emotivi. Io non posso immaginare un'ipotesi di conversione alla giustizia, alla pace, perché questo come credente nel cuore lo sa Dio e come cittadino non si accoglie lungo la strada, c'è bisogno di tempo. Però stiamo raccogliendo delle esperienze di ritorno dal punto di vista emotivo da parte di questi ragazzi che stanno comprendendo che quella persona che è dinanzi a loro non è il fantoccio, il manichino sotto il lenzuolo, ma è carne e ossa, carne e ossa che vive male perché qualcuno come loro, non loro direttamente, o magari anche loro, qualcuno come loro o qualcuno di loro ha tolto la vita a un altro solo per la bramosia, solo per il bisogno di avere e di potere. Ci scandalizziamo sempre della malvagità, ma mai abbastanza del silenzio degli onesti? Come dire, per me questa domanda, questa riflessione non è una domanda, è già una riflessione. Questa riflessione è diventata più faticosa in questi ultimi anni. Non so se devo dire in Italia, mi sembrerebbe un po' presuntuoso da parte mia, ma certamente nella mia regione, nella mia città. Io credo che la stragrande maggioranza dei napoletani sono onesti e dei campani sono onesti, ma non stragrande, la stragrandissima, forse non si può dire in italiano così, maggioranza dei cittadini campani sono onesti, ma sono quasi tutti silenziosi. E non è un silenzio di chi non va in piazza a gridare, non è un problema di riempire una piazza o di andare nelle procure a fare la testimonianza per qualcosa, anche quello per carità. Ma è chi non prende parte ad una vita sempre più comunitaria per poter dire la sua, per partecipare a qualcosa. Io ho l'impressione che, e questo merito lo riconosco, lo rimando allo Spirito Santo perché ha voluto questo Papa, che forse oggi non è più possibile fare progetti pastorali. Qualche mio confratello potrebbe scandalizzarsi, insegno teologia pastorale da vent'anni, un po' me lo posso permettere di dire, senza superbia. Ma proprio perché insegno questa ricerca forse è venuto il momento in cui non si possono fare più i progetti di teologia pastorale. Ma se c'è un solo progetto da sostenere è quello di aggregare le persone perché unendosi ci si accorge che lì è il senso profondo del vivere e persino del morire. E il silenzio dei tanti non è solamente come dire una mancanza di parola, un bla bla che non c'è, ma è un'omertà come dire culturale che ci fa fare un passo indietro e ognuno se ne ritira nella sua casetta, accende le sue lucine e con le sue risperazioni, con le sue piccole gioie va avanti senza incontrarsi con l'altro. Non ho una ricetta per carità, non ho ricette, però ho una speranza, una prospettiva. Incontrandoci possiamo cambiare, possiamo convincere il colpevole, addirittura il carnefice che qualcosa può cambiare. C'è addirittura però chi si scandalizza anche dell'attività antimafia di voi sacerdoti quasi vi volesse rinchiudere in sacrestia, quasi che fosse strano che un prete si occupi di antimafia. Beh è strano quando qualcuno di noi cade nella trappola dell'etichettatura, di dire faccio il prete antimafia, spero che nessun prete dica faccio il prete antimafia perché ogni prete che fa il suo dovere, ogni giornalista che fa il suo dovere fa l'antimafia, quindi ci mancherebbe. Però è anche vero che certe etichette servono per chi vuole destabilizzare l'autenticità del nostro essere e quindi serve al nemico che dice sì sì è un prete antimafia, quindi vuol dire che non è un prete, non gli date credito, è uno è un fan o l'uno. E serve a chi invece all'amico che però involontariamente ci fa un cattivo servizio perché come dire non è quella etichetta che ci fa diventare antimafia, ma togliere i ragazzi dalla cultura e dalla seduzione malavitosa è questo il nostro impegno. Mettere le persone insieme dall'Eucalistia al torneo di bocce è un'occasione per dire restiamo insieme su altri valori insomma. Ecco allora tutto questo è antimafia certamente. Siamo in chiusura, mi dice secondo lei qual è l'aspetto più bello e più affascinante del messaggio di Gesù? Beh è quello di camminare lungo la strada come fa con i discepoli di Emmaus e anziché fare l'intollerante religioso fa il compagno di viaggio e questo è molto bello, è una cosa e poi mi emoziona che è un Dio che non ha vergogna di fare la pipì davanti a tutti perché è un bambino a betlemme e che non ha vergogna di aver paura dall'alto della croce. Questo bimbo e questo uomo sono così veri da non poter essere diversamente che non umani ma davvero divino. Grazie Don Tonino, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, di vero cuore. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.